Ciao a tutti. Benvenuti di nuovo sul nostro canale. Oggi vi porteremo l'ultimissimo scoop direttamente dal Grande Fratello. È stata una serata esplosiva e non possiamo aspettare di raccontarvela. Alex Schweizer ha sollevato uno scandalo di proporzioni enormi durante le nomination del 19 ottobre. Coinvolgendo Beatrice Luzzi. Ascoltate questa bomba? Durante le nomination. Alex Schweizer ha fatto affermazioni che hanno letteralmente scosso la casa del Grande Fratello. Ha accusato Beatrice Luzzi di essere insincera? Di avvicinarsi a Garibaldi per strategia e addirittura. Siete pronti? Ha dichiarato che Beatrice è innamorata di lui. Tutto questo è successo quasi alla fine della dodicesima puntata. Ma andiamo con ordine. Perché c'è molto di più da scoprire. In un confronto che ha fatto venire i brividi. Alex Schweizer ha affermato. In realtà. A Bea piace un uomo sposato. Sono io. Me lo ha detto tre settimane fa. Nella stanza da letto. Io poi ho condiviso questa informazione in giardino davanti agli altri concorrenti. E tu hai detto che sono affascinante. Poi hai detto. Purtroppo è sposato. Suggerendo che i tuoi sentimenti per Giuseppe non sono affatto superficiali. La reazione di Beatrice Luzzi è stata epica. Ha risposto indignata. Ma sei pazzo? È follia pura. Cacciate il filmato. Come osi pensare che io possa mettere in gioco me stessa e la mia famiglia in modo così strumentale? Questa è la più grande cattiveria che mi sia stata rivolta in queste sei settimane. E non lo dimenticherò mai. Oggi ho rivelato che, purtroppo, ho scoperto che Giuseppe non è sincero fino in fondo e che dovrò, contro i miei stessi sentimenti, fare un passo indietro. Purtroppo, ho coinvolto non solo me stessa ma anche la mia famiglia. Se l'ho fatto, era perché ci credevo. Questo è solo l'inizio dell'incredibile dramma che si è svolto al grande fratello. Rimarrete sintonizzati con noi per tutti gli sviluppi futuri. E ora, vi chiediamo gentilmente di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche in modo da non perdere nemmeno un aggiornamento su questo e molti altri eventi.